Ma questo telecomando di quanti anni fa è? È un vibratore? Sì, ma non è per me. Ho capito, è perché dobbiamo masturbare i mostri spaziali, quindi ne hai preso uno bello grosso, ok. Sono un cazzo di procione parlante. Io vedo dentro di te, Mokujin, Siulk, Grande Puffo. Mancano ancora molti personaggi da sbloccare, ma ce la faremo. Sai, non pensavo che il premio Oscar avesse una moglie. Ed è pure figa. Ma che cazzo? Perché tu non te la scoperesti? Mi sto cagando sotto! Lo sai che sono un procione? Un frocione? Ma quindi? Se frocione è procione, allora Pinocchio è Pinocchio! Kawabunga! Ti ammazzo la vita! Madonna che figa! Uno stronzetto! Ciucciamelo! Certe volte ci penso, e credo davvero di essere il miglior giocatore di nascondino al mondo. Tana per te! Hai tanto la figa, ma prova a saltare dal tetto! Avete tutti dei bei capelli! Tranne noi, forse. Finalmente, dopo tanti anni, ti ho trovato. E tu chi saresti? Tu sei un mago, Harry.